bella a tutti ragazzi sono da Mirko ben tornati su Giply, ciao e lei su Prison Architect allora ragazzi siamo tornati su Prison Architect dunque sto facendo un'ispezione dei tunnel perché sono le 3 e un quarto di notte quindi devo vedere se i miei detenuti hanno fatto i furbastri perché con questi veramente non si sa mai ragazzi conviene sempre controllarli perché non mi fido assolutamente allora io qua volevo anche fare tra l'altro una modifica nel frattempo fatta così tolgo queste celle di isolamento che non mi piacciono qua smantelliamo queste due porte perfetto e qua gli smantello anche il muro così che gli lascio il corridoio diciamo così nel mezzo, si lo fate un po' asimmetriche queste lo so me ne rendo conto ma come detto non sto usando come avete visto il pianificatore perché ho veramente poco tempo per registrare quindi abbiate pazienza ma come registro faccio direttamente per cui ho poco tempo di fare cose pianificare off camera quindi cerco di andare un po' a naso e ovviamente insomma qualche cappellata la si commette ma comunque non è un problema allora io qua vorrei fare un altro blocco celle quindi qua potrebbe venire un altro blocco come questo che più o meno la grandezza mi sembra uguale qua è 11 qua quant'è? qua in realtà è 13 da lato a lato è 13 quindi è così ok si è un pelino pelino più grande ma non è un gran problema qua glielo allargo un pochetto ok io ho rimesso le panche nel cortile perché era finita diciamo quella cosa del sindaco che non voleva oh che cacchio è successo? come tunnel? hanno beccato i tunnel? ma seriamente due tunnel ma perché non li hanno trovati quando ho fatto la perquisizione? mannaggia guardali qua che mi stavano per scappare in due meno male che li hanno beccati al volo meno male ragazzi se no era un bel problema ok quelli li hanno messi in manette quindi perfetto andate a chiudere i tunnel ok perfetto e qua viene un altro blocco celle così insomma abbiamo 3, 6 e 6, 12 posti in più che non è male dai ci avviciniamo al centinaio di prigionieri e direi che assolutamente non è male però mi serve indubbiamente fare un'altra centrale elettrica perché se no siamo messi male quindi io la farei qua con già una bella porta per il personale messa qua perfetto vai fatemela subito così andiamo a mettere un'altra centrale elettrica e non ci pensiamo più e iniziamo magari a portare il cavo fino a qua in modo che poi da qua io vada a dividere diciamo i due impianti così questa mi fa tutta questa zona qua e questa sopra mi farà quella zona lì sopra perfetto e poi ovviamente gli andrò a costruire anche una pompa idraulica magari messa qua sotto anche di queste ce ne staranno ovviamente più di una ok qua fammi già arrivare il cavo fino a qua qua fammelo già arrivare così e magari così perfetto perfetto ok abbiamo speso un boato di soldi ma del resto servivano però abbiamo completato diciamo tutte le missioni e quindi tutte le sovvenzioni per cui vediamo se ne riusciamo a fare altra sala visita ok devo fare una sala comune va bene questo assegna guardie cinofile e assegna delle guardie armate reinserimento sociale educazione tramite burocrazia un'aula dei banchi questo ci paga veramente tanto quindi potrei assolutamente farlo allora lo facciamo sarà una missione lunga l'educazione l'abbiamo già sbloccata dobbiamo costruire praticamente l'aula ok sì qua va bene qua il corridoio magari lo farò passare qua sopra perché qua vorrei ingrandire le docce la lavanderia la sala visita la libertà condizionata così almeno siamo diciamo così a posto quindi qua anche la sala visite vorrei arrivare fino a qua e la faccio già subito e direi che siamo a posto allora ovviamente devo nello schieramento mettere sicuramente un'altra guardia qua anzi anche altre due ma qua io l'avevo messa tutte le guardie perché me le ha tolte forse perché ho modificato qualcosa va bene dopodiché anche nelle pattuglie devo intanto aumentare la pattuglia anche di qua indubbiamente vorrei mettere una pattuglia cioè la pattuglia questa che mi va qua che mi va anche nelle lavanderie e nelle docce perché si sa mai perfetto qua direi che ci siamo e ne farei anche un'altra che mi va qua nel cortile ok ottimo ottimo così almeno anche nel cortile abbiamo comunque la pattuglia che va e magari facciamo anche ok mi va a dare un occhio anche in infermeria va perfetto così copriamo un po' tutte le zone diciamo principali della nostra prigione perfetto adesso i bisogni dello staff dovremmo essere a posto in teoria dunque blocco GLC lo facciamo perché tanto vicino ai 100 prigionieri ormai ci siamo perfetto volevo vedere no scusate i bisogni dello staff dunque qua loro hanno bisogno assolutamente della ricreazione i bisogni dello staff sono assolutamente a posto perfetto il comandante chiamate in arrivo sembra che lo speaker in questione sia stato licenziato ah era quello che ci ha fatto togliere le radio ok quindi posso rimettere le radio va bene no gliene metto giusta una qua in infermeria perché me lo da come oggetto consigliato no ma non me lo da più ma in realtà no vabbè io una radio qua in infermeria gliela metto dai poi tanto la metteremo nella sala comune però giusto una radio in infermeria gliela metto ok allora gli mettiamo ovviamente le luci mettigli una qua anche una qua sotto va bene e gli facciamo arrivare però la corrente dal nuovo impianto sopra perfetto allora e me la fa arrivare fino a qua ok ottimo ottimo dai costruitemi il tutto va bene allora qua la sala visite l'hanno fatta quindi questa me la smantelli pareti mi demolisci queste pareti qua perfetto e la stanza visite la stanza visite si andrà a ingrandire notevolmente e arrivare fino a qua ok bene bene allora direi che stiamo procedendo molto bene devo mettere ovviamente il corso di base che al momento non avevo ancora attivato perché non avevo l'aula quindi adesso ce l'ho per cui corso educativo di base assolutamente lo avviamo perfetto il programma educativo generale anche lo farei avviamo anche questo dai così almeno ok in coda 7 alcolisti sala comune ah manca la sala comune ok la guida spirituale manca la chiesa va bene poi anche qua posso mettergli intanto una porta visitatori così che anche gli avvocati di qua possano entrare comodamente senza problemi e magari giusto per parco 10 ingrandirei anche la sala diciamo direttamente questa qua allora metti la solita porta a prigione momentane poi l'andrò a tirar via così anche la libertà condizionata abbiamo molto più posto è vero che è enorme magari non mi serviva neanche così grande però tanto spazio ne ho quindi non è assolutamente un grandissimo problema poi farò ovviamente l'aumento della lavanderia e delle docce che sarà sicuramente una cosa fondamentale da fare più insomma aumentiamo il numero dei nostri detenuti e andiamo un attimino a sbloccare i cani vai la sblocchiamo assolutamente i cani così da avere per l'appunto la guardia cinofila almeno abbiamo anche quella e ci fanno le ronde sui tunnel loro li fiutano e evito io di far tutte le volte l'ispezione è decisamente meglio perché io ho veramente il terrore che questi mi facciano i maledetti va bene va bene allora i corsi li stiamo facendo blocco di clc quindi dobbiamo fare nuovi posti assolutamente per i nostri prigionieri e inizierei già a metterli a fare sempre qua facendo un altro blocco assolutamente identico a questo va bene lo dividiamo in due perché sennò spendo un boato quindi iniziamo a farlo fino a qua che tanto arriviamo senza problemi a 100 e poi ovviamente lo aumenteremo man mano mettiamogli giusto una porta a prigione al volo e via cosa c'è direttore la cucina no come la cucina ha preso fuoco che stanno meno male che ho gli impianti mannaggia ha preso fuoco la cucina meno male che ho messo tutti gli irrigatori che mi hanno prontamente spento l'incendio avevano anche allagato ma non è un problema quantomeno mi hanno spento l'incendio allora dato che a me qua però non piace lasciare aperto io gli metto il muro e gli metto una porta normale così che loro possano comunque passare senza problemi e abbiamo quantomeno una porta una porta normale e magari qua gli metto una porta personale se dalle cucine devono andare a fare manutenzione qua possono farlo senza dover fare il giro da fuori di tutta la prigione secondo me e la cosa migliore oh che stanno facendo lezione finalmente i nostri amici stanno facendo lezione ottimo guardia cinofila ottimo quindi facciamo la guardia cinofila ma ha bisogno dell'ufficio la guardia cinofila? no in realtà no ah no ok non ha bisogno dell'ufficio però ha bisogno dello spazio per i cani qua ci faccio intanto il canile lo facciamo interno e va bene ok mettiamo qua le cucce e chi se ne frega dai mettiamolo qua ok allora iniziamo a mettere un po' di cucce perfetto e iniziamo a prendere anche un po' di guardie cinofile tre e quattro ok ottimo dai così almeno abbiamo queste guardie cinofile naturalmente mettiamo schiera guardie cinofile sicuramente me ne devi mettere due qua e eh ok facciamo qua perfetto perfetto allora qua quella missione l'ho fatta quindi devo solo far completare il corso a dieci detenuti il corso educativo di base e il corso educativo generale perfetto io li sto facendo tutte e due no programma educativo generale tutte le stanze sono occupate ehm niente lo interroppiamo un attimo questo facciamogli fare prima quello di base allora perché mi sa che mi serve un'altra aula se gli faccio fare quello generale ehm tutte le stanze sono occupate ehm allora quanti eh perché hanno bisogno ah perché hanno bisogno di tre ore allora aspetta gli sposto un attimo gli sposto un attimo il loro programma e in teoria dovrei riuscire a farlo se gli sposto il programma allora vediamo un attimo dov'è qua perché tempo lavoro tempo libero ah no infatti perché devo fare così ok se metto lavoro tempo libero hanno tre ore tre ore così che possono farne uno alla mattina e uno alla sera in teoria così dovrebbe funzionare facciamo un attimo interrompi eh questo dove lo fanno? uno psicologo in un ufficio ok corso educativo generale però interessati qualificati zero quindi non lo so eh adesso comunque me lo da ok quindi non è un problema eh però il problema è che non c'è nessuno qualificato a farlo quindi per adesso interrompi devo prima fargli fare quello di base quindi vabbè lo interrompo tanto è inutile che pago se non c'è nessuno che poi effettivamente lo fa ok allora facciamogli arrivare quindi eh l'acqua qua sotto con il tubo piccolo ovviamente allora qua mettiamo questi e va bene dove dovremmo essere a posto così con un nuovo blocco celle ci ha preso anche fuoco la cucina quest'oggi mannaggia perché ho messo gli eventi casuali come sapete per complicarmi maggiormente la vita e e ci fa piacere questa cosa perché capitano anche sfighe ehm di questo tipo quindi incendi e lagamenti e chi più ne ha più ne mette insomma per cui non è non è assolutamente già non è facile il gioco così si va a complicare ancora di più ma comunque va bene allora liberare interna io vorrei liberare questa zona no eh scava no demolisci i pareti come faccio a togliere le fondamenta qua non me le toglie vabbè qua purtroppo non me le toglie comunque abbiamo sbloccato la nuova espansione per le aree quindi va benissimo 45.000 per espanderci ok va bene va bene non è un grandissimo problema vediamo solo un attimo il riscaldamento come stiamo messi allora qua è una zona un po' fredda quindi devo sicuramente mettergli un ehm radiatore qua sotto perché se no non riusciamo a ehm insomma riscaldare correttamente la zona quindi io gliene metto intanto uno qua perfetto tubo dell'acqua calda ovviamente lo facciamo passare fino a sopra che mi si va poi a collegare a questo ok tanto il boiler ce l'ho qua quindi in teoria dovrebbe arrivare speriamo che sti eh asini dei miei detenuti insomma riescano a superare almeno un corso perché se non mi superano il corso base ragazzi non ehm non posso fargli fare quello avanzato ed è un gran bel casino sta cosa ok prossimo lavoro indubbiamente è la ricreazione devo fargli una sala comune assolutamente perché la sala comune è davvero davvero eh indispensabile eh perché altrimenti diventa diventa problematico senza senza la sala comune eh quindi vediamo di di fargliela indubbiamente nel prossimo gameplay prossimo gameplay dobbiamo pensare un po' allo svago dei nostri dei nostri detenuti se no questi si incazzano scavano tunnel a nastro e non va bene io comunque un'ispezione di tunnel ogni tanto gliela faccio fare lo stesso perché non mi fido minimamente di di queste carogne quindi gliela facciamo fare vediamo se abbiamo beccato qualche tunnel pare di no almeno per il momento pare di no no perfetto tunnel non ce ne sono stati meno male meno male ok la mensa qua per adesso ci stanno poi come detto ne dovrò sicuramente costruire un'altra qua perché gli manca la corrente scusatemi e beh intanto allora questa corrente gliela posso dare magari con ok con questa cosa qua con l'impianto nuovo così dividiamo un attimino dai dividiamo un attimino perché sta centrale è già abbastanza al limite quindi preferisco preferisco assolutamente dividere ok vediamo se mi vanno a fare i lavori che se no c'è il frigo che non mi funziona e qua la mensa è bella strapiena devo ingrandirla assolutamente secondo me devo iniziare a pensare a un'altra cucina e a un'altra mensa qua che fornisca che dia una mano a fornire cibo perché se no non ce la facciamo quindi qua potrei fare nuova mensa più grossa stavolta nuova cucina e sala comune e chiesa sono le quattro cose diciamo fondamentali che mi mancano poi in realtà mi mancherebbe anche l'officina insomma la biblioteca tutte quelle menate lì potrei fare eventualmente qua un corridoio che va verso l'alto potrebbe non essere male anzi lo metto già a fare perché se no ho paura poi di dimenticarmi quindi sempre largo largo 3 diciamo fino a qua in modo che qua posso mettere anche altre due stanze potrei fare l'officina il negozio o qualcos'altro qua sopra e farle entrare magari anche di qua e poi vediamo poi valutiamo un attimino come come fare tutto il resto va bene ragazzi allora dai io direi che posso includere qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a prison architect abbiamo diciamo espanso la nostra prigione fino a ospitare 107 detenuti in totale che non è assolutamente male adesso il tubo dell'acqua calda ah perché qua mi conviene fare così gli do più pressione se no ho paura che non ci arrivi eh no no infatti non ci arriva l'acqua calda fino qua sotto mannaggia la miseria qua credo che non ci arriverà mai nella vita ci posso provare ma ne dubito provo a collegare i due impianti vediamo come va ma ne dubito quindi dicevo direi che posso includere qua questo nuovo episodio dedicato appunto a prison architect abbiamo ingrandito la nostra prigione come detto fino a ospitare 107 detenuti in totale che non è assolutamente assolutamente male dobbiamo fare indubbiamente ancora parecchi parecchi lavori allora intanto metto anche 40 guarde così la perquisizione la fanno decisamente prima però devo dire che sta andando bene abbiamo messo anche l'aula quindi insomma al momento sì mi scavano ovviamente qualche tunnel ci provano a scappare perché giustamente insomma è nella loro natura dei detenuti sempre provarci però devo dire che sono piuttosto soddisfatti della nostra prigione questo non può che farci piacere quindi vi invito come sempre a lasciare un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivete al canale se non siete iscritti se va seguite anche su instagram lo trovate qua sotto in descrizione detto questo vi saluto e noi ci riusciamo al prossimo gameplay ciao belli ciao